Sono Danny Imperiale, vengo da Como e faccio il ballerino. Ho scelto di fare il barman perché sono molto estroverso, mi piace stare a contatto con la gente, quindi pensando a questo lavoro, arriva una bella ragazza. Vi aspettiamo alla villa del meeting, mi raccomando non mancate perché gli istruttori sono fantastici. Non vi spoilerò niente della villa perché è fantastica, dovrete vederlo voi. Si sta in giro con gli amici, si esce, si fa festa tutte le sere. Quindi oltre che a studiare e imparare, usciamo e ci divertiamo. Adesso vi farò vedere una cosa che ci hanno insegnato qua alla meeting che non insegnano da nessuna parte. Allora prendete lo shaker, vi girate verso destra, shakerate e guardate il cliente davanti con un bel sorriso. Soprattutto delle belle ragazze, quindi se volete anche imparare non solo a fare i cocktail, ma anche a rimorchiare, mi raccomando venite al meeting perché vi insegnano anche quello.